Buon lunedì 3 ottobre, un brano del Vangelo che ci mette autenticamente alla prova relativamente a ciò che consideriamo l'essenza stessa della legge, l'amore per il prossimo e naturalmente siamo chiamati a definire il prossimo non sul piano puramente teorico ma attraverso le azioni pratiche che noi siamo in grado di mettere in campo adempiendo alla legge dell'amore e abdicando ai nostri interessi personali, vedere e avere compassione, essere vicini, farsi prossimo nell'incontrare il prossimo. Questo è il brano del Vangelo di oggi che inizia, si apre con questa provocazione del dottore della legge nei confronti di Gesù su quale sia il più grande dei comandamenti, al che Gesù risponde ponendo una domanda, chiede a lui che cosa sta scritto nella Sacra Scrittura e il dottore della legge risponde correttamente e naturalmente Gesù lo invita a fare così e porta come esempio la parabola del buon samaritano e alla fine invita quel dottore della legge a essere conseguenziale rispetto alla consapevolezza di quale sia il punto fondamentale dell'agire del credente, agire nella compassione e nell'accoglienza mettendo da parte i nostri momenti di concentrazione su noi stessi perché quel sacerdote e quelle vite che passano, vedono ma non si fermano evidentemente avevano la mente impegnata da tutti i loro affari, vanno oltre, non pensano che vedere significhi far sorgere nel cuore, nella mente quella compassione che ti fa fermare, che ti fa essere pronto a curare le ferite, nell'incontrare il prossimo, nella reciprocità. Ma vediamo il brano del Vangelo di Luca, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e disse «Maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna?» Gesù gli disse «Che cosa sta scritto nella legge?» E il dottore della legge Gesù gli riformula quella domanda attraverso un'altra domanda «Come leggi? Qual è la tua interpretazione?» Costui rispose «Amerai il Signore io con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso». Qui c'è un invito a coinvolgere l'intera persona e le relazioni che tu costruisci attraverso la tua persona con gli altri e lì fare sì che sia il contesto reale e concreto della dimensione dell'amore. Gli disse «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Fa questo e vivrai. Non semplicemente «Sei preparato, fai e vivrai, solo se tradurrai in azione, in pratica, avrai la vita eterna». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù «E chi è il mio prossimo?» Gesù rispose e risponde attraverso un racconto. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto. Lo percorsero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Lo vide e passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, ed era in viaggio, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Un abitante della regione di Samaria, non certo né un sacerdote né un eletto, vede e ha compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo «Abbi cura di lui ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». Ecco, guardate, questi gesti, fatti di sollecitudine, di cura, di impegno anche economico e di promessa, che si ritornerà a pagare il dovuto e, se necessario, anche di più. Ecco, questo è un impegno per il futuro che viene qui rappresentato, un impegno concreto, reale. E a questo punto Gesù chiede «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù gli disse «Va, e anche tu fa così, va e fai». Non si accontenta della risposta corretta, chiede un riscontro nel modo di agire e a ciascuno di noi chiede di andare, vedere, avere compassione, prendersi cura e naturalmente questo non ha un significato puramente teorico. È un invito ad agire, agire nel senso della cura, dell'accoglienza, della disponibilità, del tempo e anche delle risorse economiche per prendersi cura di coloro i quali sono stati calpestati, derubati simbolicamente sulla strada di quei luoghi, ma nella contemporaneità tutti i depredati dalla violenza umana, dalla forma di predazione che caratterizza l'ingiustizia sociale. E di queste persone noi dobbiamo concretamente prenderci cura, investire il nostro tempo e le nostre risorse, avendo come prospettiva la dimensione dell'amore. Buona giornata a tutti.